e benvenuti ragazzi io sono cd 17 e oggi è il prossimo episodio di fortnet dove ho avuto l'ultima volta un po' di illustra qui l'ultima pacchetto dei geni degli anime 10 nuovi oggetti in arrivo su fortnite a partire da ottobre 22 oggi vi leggo finalisti e votazioni il quartiere e quartiere 2.0 27.2 da il team di fortnet indossiamo le caschette di ricostruire pinnacoli pendenti dopo un'attenta votazione delle proposte invitati in occasione del quartiere 2.0 abbiamo selezionato nuove finalisti eccezionali in seguito vi presentiamo per ciascuna delle tre categorie di edifici il ristorante benmac allora ragazzi dico solo il nome allora poi fatevi lo screenshot del video per la mappa se volete vederla benmac ninja ninja dottore a basso dj e xdark poi gli appartamenti asciuri asciuri charlie brown e distratto poi ci arriva una charlie tattino brown tattino e e distratto distruttore i negozi orisent the blog eh sì orisent just frog e mister eh mrs true elegant e leggend con elementi a noi finalisti e grazie a tutti i principanti per il tuo esermo dimostrato votazione avrai la possibilità di donare i lingotti e sostenere la costruzione del tuo progetto per il preferito per il quartiere punto zero una volta scelto l'edificio che ti piacciono di più puoi interagire con i manifesti verso il sito eh per il sito di costruzione e altri luoghi della mappa e donare i lingotti d'oro per premere il tuo voto i tre finalisti per ogni tipo di edificio, ristoranti, appartamenti, negozio verranno pubblicati nel gioco per il suo sito di costruzione di pinnacoli e pinnetti e sui manifesti sparsi per la mappa dove potranno essere votati nella community per un periodo di 20 giorni da domani fino a 21 luglio alle 15 ogni tipo di edificio avrà un diverso periodo di votazione con qualche lieve modifica rispetto a quanto annunciato il ristorante dal 21 luglio 22 alle 15 al 27 luglio 22 alle 21 ore italiana le appartamenti dal 27 luglio 22 alle 21 ore italiana al 3 agosto 22 alle 7 ore italiana i negozi dal 3 agosto 22 alle 7 al 9 agosto 22 alle 15 ore italiana i vincitori verranno annunciati una volta votate tutte le categorie ed i vincitori non compariranno immediatamente pinnacoli pendenti ma verranno aggiunti con un aggiornamento successivo siamo noccati a finire il quartiere del punto zero i seguenti vincitori sono stati progettati con molta cura dai creatori e hanno mostrato di aver compreso criteri definiti e linee guida per la progettazione dei livelli questi creatori hanno saputo progettare difficili e funzionali integrando perfettamente il proprio stile e le loro poste hanno raggiunto un elevato livello di qualità e mantenuto l'apprezzata e essendo di pinnacoli qui dentro utilizzando lo spazio originale selezione il ristorante Benemak bella ninja DJ bella proprio bella di Benemak e poi quella di X-Dark che è bella quella di Benemak comunque voterei oltre ad avere forme armoniose la configurazione molto ampia di questo edificio offre una gradita pausa dai luoghi stretti di pinnacoli pendenti il progetto di X-Dark è sorprendente il colore di valgine e le scelte artistiche si fanno perfettamente con l'ambiente circostante mentre la struttura garantisce una tregua ariosa dalla densità dello spazio selezione gli appartamenti a sciorri ok penso che è un'unica quindi penso che è bella vediamo un po' gli altri la prima caratteristica di nota di questo edificio è l'utilizzo delle forme dei piani in modo convergente e caratterizzante per gli osservatori pratica e percebe alla vista la struttura offre molti tipici spazi per esplorazione la decisione richiede lo spazio multifunzionale con la caffetteria al piano terra presenta un'apprezzabile scelta di design da parte di Asciorri che espande i potenziali degli appartamenti poi c'è Charlie Brown ok Charlie Brown compre senza dubbio l'arte della narrazione che in questo edificio si manifesta tramite il rispetto delle righe del mondo reale ogni aspetto della sua la struttura è stato progettato con un grande senso logico dalla posizione dei bagni al partito perfetto per una preguagliata l'altro appello contribuisce a rendere l'edificio tanto bello quanto funzionale poi c'è quello di distractor che è più bello per me sembra più una prigione però è bello mi piace a parte alcune rifiniture ma comunque questo per me è quello più bello questa cazzola di distractor vedete abilmente le idee della struttura originale con una configurazione nuova suggestiva i minuzioni dettagli dai quadri alle pareti agli uffici e i magazzini funzionali rendendo lo spazio accogliente e realistico il colore bianco presenta una scelta di design unica e permette all'ufficio di risaltare e distinguersi dagli altri adesso proprio a proposito dei negozi questo qui non sembra mai un negozio come odio recent per adesso questo qui è il primo negozio che mi è fatto vedere ragazzi io senza leggere la cosa vado avanti senza dire la descrizione vado avanti adesso io just proprio sembra più un bar che un negozio questo qui così così potrei questo a pari punti con il primo dei negozi perché non so con quale decidere ok ragazzi qui oggi è finito come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se vi siete piaciuto mi raccomando se vi siete piaciuto mi piace commentate e condividete se clicca il canale attivate la campanella seguitemi su instagram chioccia la cd tra basso i tra basso official ragazzi ma ce n'è il vostro cd se è tutto per ragazzoli ciao